La cosa che voglio condividere con chi ascolta è proprio i tre strumenti che proveremo a sviluppare insieme e che sono molto pratici e operativi. Il primo è l'attivazione in una classe si può fare con una dinamica comunicativa un tantino più accelerata, fondata sul cambio turno, per cui invece che l'insegnante imposta su monologhi, propri molti ma anche su alcuni membri della classe, è invece fare più frequentemente la parola circolare. La parola circolare vuol dire fondata su maggiori cambi turno e questo abbiamo già studiato e lo proveremo insieme nel webinar, è già uno strumento di attivazione, di coinvolgimento, di partecipazione, per cui la parola circolare. Poi volevo segnalarvi il secondo fattore, che le emozioni sono fondamentali. Allora un insegnante cosa può fare? Può fare che ogni tanto fa una sorta di consulto, l'abbiamo chiamato sentimomento. Il sentimomento vuol dire gli studenti, gli allievi, la classe, come sente in quel momento quell'adatto aspetto didattico, quella vicenda tecnica e di contenuto. Per cui il sentimomento va a sollecitare delle parti del cervello molto interessanti, che sono più deputate ai sentimenti e alle emozioni. Poi il terzo e ultimo è il corpo piccolo, cioè fare delle piccolissime microattivazioni al banco, stando pur fermi, non facendo rumore, ma che risponde all'attivazione del cervello nelle parti più basse, più del tronco encefalico. Per cui il corpo piccolo studieremo insieme alcune microattivazioni che possono essere molto adeguate, proprio per animare, dinamizzare, mobilizzare. Perché i ragazzi o i bimbi hanno il problema di distrarsi, assentarsi, annoiarsi. Per cui ecco, ho condiviso tre strumenti molto pratici che svilupperemo nel webinar di sei ore e la lezione attiva. Li ripeto, la parola circolare, il sentimomento e il corpo piccolo. Ciao!